Ciao a tutti, anche oggi vi porto con me per un giretto alla Mondadori. Devo dire che questa Mondadori è diventata una delle mie preferite, perché è piccolina ma è ben fornita. Ecco una panoramica dei libri thriller, che io amo come genere. Abbiamo le altre di Sara Blau, che ha una trama molto particolare. E una vicina gentile, che mi ispira un botto. Una panoramica di libri di vario genere, appena usciti e nonno. Due in particolare hanno attirato la mia attenzione. Il filo della tua storia, della Lunganesi, sembra molto interessante. E The Colorful, anzi solo Colorful, della Dea. Questo qui mi guarda da anni, libreria, una vita come tante, non so mai se acquistarlo o no. La serie di Blackwater, che sembra interessante, però per ora non l'acquisterò. E poi una panoramica dei fantasy, che hanno delle copertine stupende. Guardate questa, Dark Side, wow. Ma non so nemmeno di cosa parli. Comprate Hunger Games, che a novembre esce lo spin-off, il film al cinema. Innamorata del mio migliore amico, che copertina stupenda, però la trama non mi diceva granchi. E The Charm Offensive, un'altra panoramica, però stavolta dei Rosa, i romance che amo follemente. La nostra felicia. Daniel Steele, che è nel mio cuore. E poi, offerta. Top due libri 9,90, Giulia Queen con il Visconti che è mia mamma. Alla fine ho preso un libro per l'una, mia figlia. Ciao!